Si preannuncia memorabile la prossima edizione del Salone Nautico di Genova, la 61esima, che aprirà i battenti il 6 settembre. Gli espositori hanno già prenotato tutti i posti disponibili, un sold out che rispecchia i dati di un mercato in crescita nonostante il periodo pandemico. Un trend del mercato 2021 in crescita del 20%. Noi saremo una delle motrici che traineranno la ripresa del nostro paese, non solo a livello produttivo, ma incendivando anche il turismo nautico. Siamo il paese più bello al mondo, con 8.000 km di splendide coste. Nell'attesa di vedere il nuovo waterfront di Levante pronto nel 2023, il Salone può contare su maggiori spazi in acqua e a terra per una superficie complessiva di oltre 200.000 m2, quadri. Oltre mille le imbarcazioni e i nuovi progetti esposti. È un progetto che ha veramente cambiato la geografia del Salone, anche la tensostruttura la vedete completamente aperta, quindi in perfetta connessione con tutte le altre aree del Salone Nautico. Qui il Regno ovviamente è dedicato sia all'utilizzo delle imbarcazioni, quindi destination management, chiamiamola così, e a tutto il mondo dell'accessoristica e componentistica dedicato al mondo delle imbarcazioni a vela. I rappresentanti delle istituzioni e delle imprese di settore riuniti a Genova concordano sull'importanza della nautica nella ripresa economica del territorio e di tutto il paese, anche in un'ottica internazionale. Le aziende che esportano si sono dimostrate più resilienti rispetto alla crisi che ha coinvolto l'economia mondiale e reattiva il cambiamento nella ripartenza. È come dire che il Made in Italy della nautica abbia quasi prevalso sulla pandemia.